La mia passione per la chimica farmaceutica è nata all'università, dove ho capito che il mio sogno era fare ricerca e contribuire allo sviluppo di nuove terapie personalizzate. Durante il dottorato tra Italia, Grecia e Stati Uniti e il post-dottorato in Svizzera ho avuto la fortuna di lavorare su progetti molto ambiziosi che mi hanno fatto crescere come ricercatrice. Lungo il mio percorso ho incontrato supervisori incredibili che mi hanno sempre motivato e spinto a seguire la mia passione per la scienza. In particolare mi occupo di disegnare e sintetizzare molecole che possano andare a colpire bersagli molecolari alterati in caso di tumori. L'obiettivo del mio progetto è di sviluppare una strategia chimica innovativa che consente di attaccare in modo selettivo le cellule tumorali. Queste sonde chimiche altamente selettive aiuteranno a studiare il ruolo delle diverse proteine nell'insorgenza e nella progressione dei tumori. Il mio lavoro andrà ad aprire la strada per terapie antitumorali mirate con minori effetti collaterali per i pazienti. Sono particolarmente felice che Chiara abbia vinto il premio L'Oreal UNESCO perché questo le consentirà di realizzare il suo sogno che è quello di rientrare in Italia dopo diversi anni all'estero e di riportare a casa quel bagaglio di conoscenze e di esperienze che ha maturato in questi anni. Ringrazio L'Oreal UNESCO per questo prestigioso riconoscimento come scienziata e come donna. Questa borsa mi permetterà di riportare in Italia tutte le conoscenze acquisite in più di 5 anni all'estero e di portare avanti nel nostro paese la mia ricerca innovativa nel campo della chimica farmaceutica.